eccoci tornati anche oggi giorno 34 e penultimo giorno di lega signori andiamo a verificare se così mancano manca un giorno e 18 ore per chiudere quindi ragazzi abbiamo 48 2 42 ore di lega ancora in corso per cercare di battere il nostro record signori ieri tra attacchi del cavolo e altro siamo riusciti comunque a chiudere a più 2 quindi direi che ci sta e quindi signori abbiamo sostanzialmente 5700 e 2 coppe ufficiali e quindi me ne mancarebbero 48 da guadagnare tra oggi e domani per battere il mio record non lo so ci può ci può stare però il problema è che sto un po cambiando un po esercito quindi ragazzi se arriva bene e se no sarà il mese prossimo comunque il mese prossimo signori cercherò di mantenere un contenuto la settimana su quello che è l'andamento sostanzialmente della lega quindi io continuerò a scalare una volta a settimana ragazzi farò un video magari un po più lungo magari di 40 minuti in cui andremo a raccontare un po come come sta procedendo la scalata ho portato su il libro qua a livello massimo quindi mo lo proviamo e ragazzi direi che possiamo andare con il primo attacco di giornata non ho fatto grandi variazioni l'esercito magari gli spaccamuro sarebbero stati anche ideali non l'ho fatto perché sono pigro quindi mi perdonerete e come primo attacco sinceramente non lo so io me ne andrei quasi sopra ai cannoni perché sopra il monolito sarebbe bello ma credo che ci lasciamo abbastanza le penne quindi ragazzi provo provo qua faremo poco danno però dico anche pace proviamo signori siamo lì andiamo a clonare probabilmente si sbaglio con la seconda furia perché non ho i goblin e quindi non c'è così tanto bisogno di andare a fare subito un'invisibilità ulteriore in più e casomai poi provo a a fare una partenza leggermente diversa ok abbiamo sempre i soliti rompicoglioni direi che ci andiamo un attimo a spazzolare qua in angolo il monolito ragazzi per il momento lo lascio lo lascio la per il momento direi che lo possiamo anche lasciare la non no non è che mi piaccia proprio tantissimo partire contro le volano sinceramente però è vabbè ragazzi io non lo so parto magari in una traiettoria che non è proprio magari la più bella però sinceramente navigare contro ha sbagliato con vabbè sbagliato con il mastino ragazzi speravo che andasse a traiettoria qua con qualche qualche difesa aerea non ho guardato non ho guardato qui io volevo bloccare prima che arrivasse non ci sono riuscito direi che possiamo anche permetterci di usare il potere del sorvegliante ragazzi la abbiamo ancora la campionessa abbiamo ancora i poteri i nostri eroi la campionessa direi che la possiamo anche attivare la possiamo anche attivare ragazzi manca ancora un sacco di villaggio di truppe non non c'è rimasto un granché sono morti tutti è sbagliato quel mastino sarebbe stato abbastanza determinante averlo averlo vicino a noi pace dai pace bene a breve ci accingiamo attivare il potere del nostro amico re barbara io direi di attivarlo che se entra lì non vuole entrare molto bene entra lì fa il devasto dai fa il devasto spacca tutto spacca tutto spacca tutto abbiamo con il potere della nostra regina quindi sinceramente lo vedo più un attacco verso i 90 e la nostra cacciatrice non c'ha molto spazio di manovra lei poverina ok finisiamo 85 86 motiviamo anche il potere della regina 90 ragazzi devo dire che non mi sta dispiacendo assolutamente questo esercito e non ho una grandissima esperienza perché lo sto usando da pochissimo ragazzi e sfide veramente ne ho fatte poche però però riusciamo a fare dei risultati che sono secondo me abbastanza interessanti ciao scheggia ben arrivato anche te e ok io direi che possiamo procedere immediatamente con il secondo magari poi dal terzo attacco in poi magari faccio una piccola variante e metto gli spacca muro perché secondo me spacca muro sono abbastanza importanti e vabbè io qui signori sinceramente me ne andrei proprio sopra il deposito di elisir se se ne siamo capaci non vedo quale possa essere il problema ho sbagliato traiettoria limico ho sbagliato traiettoria è un po vabbè quindi ecco io la vado a mettere qui ragazzi andiamo con le nostre cloni nostra furia solito giù di invisibilità quali facciamo sinceramente un po di male credo un po di male riusciamo a farglielo sì direi peccato per quel cannone là non riusciamo mica schiantaglielo vero non si può aver tutto dalla vita ecco qua un bel spacca muro porca di quella brutta eva sarebbe abbastanza fondamentale ammetto che non sarebbe male e ok sinceramente sì abbiamo il monolito ragazzi io tendo provo le tre stelle sinceramente poi se ne arriva una cosa vi devo dire ne arriverà una lo so mi tengo provo a tenermi un paio un po di mongolfiere per il finale provo a tenermi qualcosa per il finale che magari possono essere utili vediamo vediamo un po io proverei a dare una gelata qua vediamo cosa cosa ne può uscire si volano navigare contro volano non è mai molto saggio attiviamo il potere da sorvegliante vediamo forse è attivato anche un po troppo presto poteri particolari non ne abbiamo abbiamo ho necessità di avere almeno lo yak sul re almeno lo yak sul re ho bisogno di averlo assolutamente almeno è vabbè ragazzi non lo so o ci arrivo con la regina oppure questo attacco è un attacco da mandare veramente a quel paese io spero di in qualche modo di arrivarci con la regina però sinceramente non ci credo neanche troppo che palle che palle ragazzi che palle veramente che palle peccato peccato però sinceramente ok non sono disperato perché credo che posso fare molto meglio adesso faccio un po di modifiche ragazzi e altri sei attacchi insieme ok ho fatto qualche modifica leggera nel prossimo attacco in realtà c'è solo lo yak in quello dopo ho messo uno spaccamuro vediamo vediamo un attimo se magari fa un po di differenza visto che magari inizio parto con i due reali vediamo signori ok ci siamo e vamos con il terzo attacco all'orz 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 allora così su due piedi mi viene voglia di andare a mettere uccello sopra deposito di oro si uccello dirigibile scusate ragazzi non pensate male e quindi boh c'è ci può anche stare in realtà magari proviamo non so qual è sia la traiettoria giusta forse questa forse anche no vabbè ragazzi io provo a metterlo qua ok e pompiamo si pompa al momento non mi sembra di aver visto bombe quindi direi che la cosa mi piace abbiamo fatto fuori anche la la troia della regina avversaria ragazzi quindi sinceramente non mi sta dispiacendo e dopo di che adesso abbiamo quegli infami lì quegli infami lì in qualche modo li dobbiamo spazzolare quindi vediamo titana non so se sia sufficiente forse magari ci metto anche un drago non voglio usare i miei reali in questo momento perché i miei reali quasi quasi li vado a mettere qua e ok vado a mettere giù una cacciatrice facciamo fuori anche la campionessa tesorini che sinceramente ci fa più che bene se ci andiamo a prendere anche quella difesa aerea lì guardate sarebbe una cosa spettacolare sì sono un coglione perché vado sempre contro ma porca di quella brutta maledetta mi tocca partire dall'altra parte eh Olvula no no cioè non l'avevo visto prima non me ne sono accorto mi sono stato attirato dalla difesa aerea e basta non ho guardato altro mamma mia sembra veramente di avere pochissima esperienza a volte e vabbè signori qua procediamo e io vado a gelare e direi anche di attivare il potere del sorvegliante se tutto va bene facciamo una stella e tanto ormai siamo anche abituati a questi risultati miseri questi risultati miseri oh guardate il municipio è andato giù bene campionessa ando stai che non ti vedo più ok eh ti avevo messo là ma perché sono andato mamma mia vabbè ci sono degli errori abbastanza plateali su questi miei attacchi ragazzi eh no sì diciamo è vero non sono un professionista perché ragazzi un professionista avrebbe spinto fino all'ultimo giorno di lega avete finalmente ragione io ho un po' allentato e ma visto che non non l'obiettivo era quasi irraggiungibile ragazzi sinceramente ho voluto provare qualcosa di diverso quindi questo è l'esercito che io ho fatto e quindi cos'è che ho fatto tolto una di queste e una mongolfiera se non sbaglio e ci ho messo uno spaccamuro anche l'arciere via e due sgherri ecco io proverei una cosa di questo tipo comunque ok quindi riempiamo devo dire che gli spaccamuro signori fanno sempre fanno un bel lavoro averli averli provati prima avervi ascoltato prima ragazzi non sarebbe stata una cosa sbagliata quarto attacco subito e abbiamo tutto direi che possiamo andare a provare questa mini variante e ok allora qui sinceramente andrei sopra il monolito se fosse possibile in quanto ci sono tre difese aeree in quella zona lì sicuramente ci facciamo del male direi che sicuramente ci facciamo del male tre difese aeree non gliele prendiamo però ragazzi proviamo sopra torre dello stregone così non mi dispiacerebbe vaffanculo siete tornati dentro spero di sì ok eeeh stava per uscire ragazzi un bel erroraccio stava per uscire un bel erroraccio eh sì ah aspetta via invisibilità ok eeeh vabbè insomma la cosa positiva è che gli abbiamo fatto fuori insomma qualche difesa e volano anche fastidioso eeeh bene mmm come partiamo come partiamo io direi proviamo un po' così e andiamo a spazzolargli via un po' la difesa aerea eeeh e magari qualcos'altro e poi io sinceramente proverei ad aggredire questo angolo qua sotto anzi direi che non dobbiamo aspettare troppo perché non è che abbiamo la vita infinita con i nostri eroi giustamente e ok eeeh nostra regina no vabbè vabbè entra lì entra va bene eeeh è molto rischioso è molto rischioso ma hai hai ancora il tuo potere e che sinceramente ci sta qui io vado a gelare un attimo e attiviamo il potere del sorvegliante che abbiamo anche il nostro re barbaro dentro regina fammi fuori sì sì fai fuori anche sì fai fuori tutto quello che riesci a fare tesoro sì municipio giù ok abbiamo due mongo che adesso le vado a mettere qui campionessa campionessa è la distante eeeh abbiamo un sacco di draghi fai fuori facciamo fuori quella difesa aerea lì no eh io sì difesa aerea quella tor infernale volevo dire eeeh vabbè ragazzi non lo so non lo so eeeh abbiamo ancora un po' di 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 truppe abbiamo ancora un po' di draghi eeeh vabbè comunque percentuali buone forse potevamo fare un po' meglio all'inizio ragazzi con con il blimp ma non lo so secondo me sto sbagliando qualcosa per fare più per arrivare alle tre stelle non lo so non so se bisogna partire almeno con qui eeeh gli eroi e far fuori qualcosa o che cavolo ne so vabbè comunque stiamo facendo degli attacchi discreti a parte il fail eeeh cazzo arriverà un un tre stelle spero prima o dopo perché siamo qua che lo aspettiamo signori vado a velocizzare il tutto e seconda parte di giornata per noi ok signori chiudiamo la giornata come il nostro solito ormai gemmando tutto quello che c'è bisogno di gemmare per chiudere i tempi di attesa il mio gattaro ormai non mi non mi lascia credo che me lo porterò fino a quest'estate signori possiamo andare con il quinto attacco e ce ne andiamo subito allora mio signore vabbè io entro lì dove c'è uccellone ragazzi e gelo anche aaaah camassa che gelo aaaah camassa che gelo guarda non voglio saperne niente giù qua boom signori pompiamo e vediamo se siamo fortunati per una volta eh siamo fortunati per una volta dai fatemi contento una cavolo di volta buttato buttato il municipio però cazzo vabbè va bene dai oddio cosa sono super minatori in difesa che roba zeano ma che roba è allora partiamo da questa parte qui non so se faccio bene a partire sempre con qua ci metto un drago con gli eroi cazzo se fa male la bomba puttana miseria se fa male quella bomba maledetta non è mica una cosa proprio così stupida eh fa male la bomba di super miner ragazzi fa male eeeh allora nostra regina ok non lo so proviamo proviamo io vado a mettere qua dobbiamo un potere sorvegliante intanto attiviamo potere sorvegliante allora il municipio spero che quelle truppe lì me lo tirino giù perché altrimenti guarda non non miglioro assolutamente più nessuno nel laboratorio perché non vi meritate assolutamente niente ok allora la campionessa in teoria dovrebbe andarmi a prendere quella maledetta inferno ok e ci siamo sai che in realtà non è neanche così male come attacco il problema magari può essere quella difesa aerea lì però fino a un certo punto in realtà ragazzi arrivano le prime tre stelle con questo esercito incredibile incredibile fortissimo 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 non è male sinceramente avrei voglia di provare anche i draghi elettrici li proverò non credo di portarli né oggi né domani non lo so per domani domani non lo so che esercito posso portare domani ragazzi vediamo vediamo intanto come prosegue questa giornata perché intanto mi colla il naso perché se ho delle soddisfazioni con questo esercito ragazzi io non lo so forse potrei anche decidere di continuare con questo vediamo intanto ho i miei super capelli oggi mi li taglio perché sono andiamo sesto attacco per noi mamma mia eh lo so anch'io che lì in mezzo sarebbe bellissimo entrare ma come cazzo faccio entrare lì come diavolo faccio entrare io lì ciao l'unica potrebbe essere gelare il volano e lì gli facciamo un gran male non lo so ragazzi ci proviamo dai troppo troppo un bottino troppo interessante troppo ehi aia aia non lo so ci proviamo ragazzi vediamo cosa aaa pieno di bombe morti tutti morti tutti vabbè signori dai per cortesia un qualcosa di più perché uccellone cellone 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 mamma mia abbiamo fatto schifo abbiamo fatto letteralmente schifo oh gesù come partiamo non so proviamo dobbiamo fare pulizia dobbiamo fare una pulizia abbastanza impegnativa qua ci butto due sgherri butterei anche un draghetto ma buttatemi giù no quella torre delle arciere porco can quanto ci vu dove vai re barbaro che cazzo vai no 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 ragazzi questo è un attacco brutto non ne rendo conto siamo partiti molto male siamo partiti molto male non abbiamo più niente la regina adesso mi schiarta è un problema è un problema gigantesco attiviamo potete sorvegliante non lo so non credo che riuscirò a far miracoli beh intanto abbiamo fatto fuori una difesa aerea però vabbè servisse qualcosa vabbè no non volevo fare una stella con l'ultimo con questo attacco però ci credevo per favore per favore miracolo per favore sì miracolo sì miracolo credibile eh vabbè eh vabbè insomma peccato 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 comunque ragazzi mi sta piacendo un po' le terrestri mi hanno un po' rotto le palle ma con il volante chi è cosa c'è qua in arrivo ah gunghi tunghi eh ragazzi piacerebbe casomai finita la lega passo a salutare un po' di gente che mi ha invitato giustamente però non credo di cambiare clan se cambio clan ragazzi torno un po' di giorni nel clan che abbiamo che ho fondato no non ho fondato un cavolo era già era già esistente però ci siamo trasferiti lì e questo è il clan ragazzi clash friends quindi se volete metterlo tra i preferiti mettetelo perché sicuramente farò un po' di guerre in questo clan con il mio primo villaggio anzi anzi ragazzi ne approfitto un attimo per flexare il mio secondo villo a credo 10 giorni di vita siamo già così devastante ho già i muretti al 10 cavolo se va su come un siluro sto andando su gli eroi non ce li ho al 30 ovviamente ho il potenziamento dato del nuovo villaggio però inizio inizio a rompere sederi bene ragazzi è giunto il momento che tanto attendiamo spero che queste gemme oggi mi siano sufficienti sì dai ne ho ne ho ne ho da vendere ragazzi penultimo attacco di giornata e andiamo e cerchiamo di fare un qualcosa di migliore come cavolo faccio io non lo so ragazzi dove dove vado a mettere io la roba intorno al municipio mi faccio un gran male faccio tanto male intorno al municipio vabbè ragazzi provo così vado a aprirmi il dirigibile qua dove c'è il super cannone cioè ci dovrei arrivare cavolo ecco lì arrivo lì arrivo vabbè penso che qualcosa comunque riesco a fargli eh intanto il volano tanta roba il volano tanta roba adesso lì fuori sinceramente con un po' di mongolfiere ma non ce n'è neanche bisogno guarda ce n'è neanche troppo bisogno però avrei necessità di andare a distruggere quella difesa aerea la magari no eh sarebbe una cosa insomma non proprio del tutto sbagliata comunque io intanto andrei a prendermi uccello che ne ho bisogno ce lo andiamo a pigliare mamma mia titana ma che bello che è vedere che fai esplodere tutto così guarda cioè mi dai proprio un'emozione mi dai proprio un'emozione e vabbè io un po' un po' di mongolfiere gli butto qua ce la giochiamo contro contro l'aria ma si oh ma avevo ancora un'invisibilità portocane neanche a corto neanche a corto non me ne sono pensa a corto oh arco x desta minchia ti togli cioè non lo so non lo so mi bene allora cosa possiamo fare attivo potendo sorvegliare lo attivo e adesso sinceramente mi tengo invisibilità e gelo per oh ma quella cosa sta succedendo lì ragazzi cosa sta succedendo lì in mezzo che non ho visto bene qua municipio non lo voglio vediamo il potere regina veloce butta giù tutto ok eh quella difesa aerea lì quella difesa aerea lì sì dà un sacco fastidio devo fare vabbè ragazzi niente di che neanche questo attacco niente di che cioè veramente gli abbiamo fatto fuori abbastanza robe però non ho non ho nulla per pulire e quindi quindi ragazzi è un attacco barbaro un attacco un po' barbaro vabbè 30 secondi aspettiamo con i nostri i nostri sgherri e vediamo un po' cosa succede 78% intanto arriviamo al nostro 80 sì arriviamo al 80 forse mamma che palle però aspettare ragazzi andiamo facciamo un bel zoom su questo sgherro madonna che brutti occhi che gli hanno fatto sembra morto praticamente sembra un cadavere lì che che fa anche brutti gesti che sembra che stia facendo dell'altro bene non troppo ma insomma andiamo con il nostro ultimo attacco di giornata di questo penultimo giorno di Lega quindi scioppiamo ok abbiamo nostra regina tesoro ti sveglio subito abbiamo 7 sorvegliante ecco ci vuole sempre un po' di pazienza perché ragazzi non so ci sono sempre un sacco di gente sopra alle basi dei nostri eroi e ci siamo per l'ultimo attacco di questa giornata ragazzi quante a quanto stiamo a 192 beh abbiamo un po' migliorato adesso sinceramente avrei bisogno di un fare un 3 stelle un bel 3 stelle ma vedo che vedo che è un po' un po' ardua come cosa vabbè ragazzi sinceramente non so vado via pur istinto e vado a metterlo qui sinceramente a me non dispiace come cosa provo mettiamo lì e signori sciaffoliamo tutto il nostro potere fate fuori sì 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 anche anche la veleno mi ha fatto bellissimo vedere la veleno crollare guarda proprio fate fuori anche sì anche torri fornale scaglia pietre sì anche lo scaglia pietre non mi dispiacerebbe porca di quella brutta miseria maledetta niente uno di vita sto cane maledetto va bene allora provo a mettere un draghetto qua e signori io partirei con i nostri eroi qua dentro e vediamo quella difesa aerea la andrei a prendere subito e poi io spingerei proprio da qua lato alto e vediamo un po' siamo in grado di combinare e ok direi che possiamo provare a partire signori abbiamo il nostro nostro re barbaro fortemente in difficoltà ma con questo inizio effettivamente non lo so se sto sfruttando bene dubito dubito perché il suo potere effettivamente non lo utilizziamo al massimo però vabbè sti cazzi non è che posso fare sempre gli attacchi sulla base del re barbaro che prima parliamo 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 in maniera onesta ragazzi prima c'è il re barbaro si fortissimo bellissimo ma sappiamo tutti che la vera la vera regina era la regina quindi bene signori lì in mezzo cosa abbiamo intenzione di fare no spiegatemi perché sto perdendo un po' il controllo di me stesso cosa abbiamo intenzione di fare cioè dobbiamo sempre contare sulla campionessa cioè vi sembra una cosa normale io dico vi sembra una cosa normale guarda guarda che appassa anche in mezzo che ha stronza mamma mia peggio di prima mi ha fatto peggio di prima anche eh vabbè comunque non lo so oggi se ho tempo mi alleno e domani non lo so vediamo non so se portare questo o qualche altro esercito ragazzi perché potrebbe starci anche portare un esercito alternativo però se voglio arrivare alle 5.750 almeno un po' più di esperienza devo averla magari portare questo non sarebbe una cosa sbagliata comunque terminiamo a 210 coppe una roba veramente vergognosa una roba indegna quindi 2.14 va bene siamo a 5.889 che sarebbe bellissimo terminare così la giornata ragazzi ma sarebbe un sogno bene signori anche oggi il video è terminato spero che insomma sia stato di intrattenimento e belle anime ci vediamo domani con l'ultima giornata di questa lega impegnativa ma simpatica e emozionante sotto certi punti di vista ragazzi io mi invito anche oggi a supportare il video e arriviamo a 1500 iscritti dai ne mancano 20 iscritti ragazzi è un obiettivo che credo sia insomma minimo da raggiungere dopo 35 giorni insieme e non spaventatevi ragazzi ho idea di buttare fuori un video di Yu-Gi-Oh tra oggi o domani una cosa un po' non lo so un piccolo esperimento in realtà vediamo come va e comunque ragazzi clash una volta a settimana arriverà detto questo signori un saluto ci vediamo domani ciao